La scuola dell'infanzia Santa Maria propone due sabati aperti per famiglie, soprattutto per i bimbi di Sarcedo e dintorni, prima e dopo le festività natalizie, per presentare al pubblico le proprie attività e mostrare i locali dove vengono accuditi i bambini affidati dai genitori. Appuntamento per le coppie interessate agli Open Day fissati nelle date di sabato 17 dicembre e sabato 14 gennaio 2023 con due finestre, una al mattino, 9.30, 12, una al pomeriggio, 15, 17.30. Sarà occasione per lo staff di illustrare alle mamme e ai papà le varie sezioni attive, quelle denominate primavera per i baby del nido all'interno dello storico istituto di Madonnetta di Sarcedo dedicato ai più piccoli, che dispone tra l'altro di un orto didattico e atelier pensati appositamente per favorire attività manuali e funzionali alla crescita dei bimbi, oltre che per visitare il vasto cortile esterno, il dormitorio, la sala mensa, la cucina e il salone per i giochi e gli altri locali. Puoi a dimenticarlo conoscere dal vivo le maestre ed educatrici che compongono il personale tutta femminile interno dell'asilo Santa Maria. Sara, Miriam, Alessandra, Elena, Lucia, Silvia, Marina, Anna, insieme alla coordinatrice Nadia, hanno realizzato in vista delle giornate d'apertura un simpatico videoclip promozionale con loro stesse come protagoniste, che sta girando sui social e negli smartphone suscitando sorrisi a Sarcedo. Ad attendere i visitatori anche la mascotta Neve, un coniglietto bianco che da un mese circa accoglie ogni giorno i giovanissimi ospiti della scuola. Per partecipare già da sabato in una delle fasce orarie proposte è richiesta l'iscrizione via mail all'indirizzo elettronico scuolamaternasantamaria.gmail.com indicando nel testo data di nascita, nome e cognome del bambino, giornata di preferenza e recapito telefonico di un genitore.